Torna quest'anno la terza edizione di Borsacchio in Festa, tre serate all'insegna di musica, cabaret, teatro e gastronomia. Devo ringraziare per prima l'amministrazione comunale che ci permette ancora per il terzo anno a fare questa manifestazione. Ci tengo moltissimo a ringraziare tutti i miei collaboratori, noi siamo 11 di cui io rappresento la presidenza di questo comitato, però senza di loro non potrei fare niente. Qual è il programma delle tre serate? Il programma è un programma molto importante, 8 agosto avremo ospite Uccio De Santis, grande cabarettista pugliese ormai famoso in tutta Italia, accompagnato dall'orchestra Da Favola. Il 9 agosto è la giornata più importante per la quale abbiamo messo in maggior impegno ed è il concerto di Annalisa. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, quindi anche Annalisa che ha inserito Roseto nel suo tour, Splende Tour. Il 10 agosto concluderemo la festa con il teatro dialettale, quindi rispetteremo la tradizione abruzzese con la compagnia d'insieme per San Giovanni. Quindi vi aspettiamo 8, 9 e 10 agosto al quartiere Borsacchio. Ringrazio il comitato del Borsacchio per l'impegno che ha messo, per aver organizzato tre giorni di eventi molto particolari, molto interessanti, con personaggi di grosso livello e con un grande sforzo economico e questo ci tengo a dirlo senza sostegno finanziario da parte degli enti pubblici, ma con risorse solo che il comitato ha trovato tramite i privati e gli sponsor privati. Quindi invito anche i cittadini a dare una mano anche acquistando magari un biglietto di lotteria che costa solo un euro e magari tanti euro possano aiutare a sostenere questa bella manifestazione. Ringrazio il Comitato